... Intanto davanti a Montecitorio il leader del carroccio Matteo Salvini manifesta sostegno della polizia in divisa. Piazza Montecitorio, polizia, corpo forestale, vigili del fuoco protestano contro il governo Renzi. Chiediamo che ci venga rispettata la nostra dignità, che venga rispettata la dignità dei colleghi, dei poliziotti, di tutte le forze dell'ordine, perché è assolutamente non rappresentativo della nostra dignità ricevere dopo sei anni un rinnovo di contratto con 10 euro l'ordine al mese. Non è giusto, io ho 59 anni e vado in giro quasi con le ragnatele in tasca. Non è giusto, bisogna combattere. È possibile mai che la forza di polizia deve stare in queste condizioni. Noi veniamo dalla campagna dove abbiamo il nostro collega Nicola Barbato che sta ancora in ospedale, che si vergognassero tutti. Oggi anche i vigili del fuoco in piazza cosa chiedete? Il rinnovo del contratto fermo del 2009. Ci vogliono dare 10 euro l'ordine al mese di aumento. Quali sono le problematiche maggiori? I nostri, mancanza di personale di mese in tutta Italia, ma mese vecchi e il personale anche vecchio, nel 51 anni. Grazie a tutti.